La persona al centro è il principio fondante del primo corso di formazione per l'umanizzazione delle cure in oncologia, che si è tenuto a Piacenza presso la sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano. I 20 medici che vi hanno partecipato, che oggi hanno ottenuto il diploma, hanno potuto usufruire delle conoscenze di medici oncologi, sociologi, psicologi e filosofi, e soprattutto di una stretta relazione con l'insegnante più importante del corso, il paziente, che ha trasmesso loro tramite la sua esperienza una serie di nozioni imprescindibili. Il primo professore, il primo docente, il primo insegnante di questo corso, sapete chi è? Non il professore più bravo, non il medico migliore del mondo, è il malato. Il malato si siede e porta l'esperienza di tutto ciò che ha incontrato, che funziona e soprattutto che non funziona. La scuola ha l'obiettivo di creare un denominatore comune per dare ad ogni medico che cura questa tipologia di pazienti la capacità di guardare nell'occhio il paziente, di avere empatia, di poterlo ascoltare e di esserci quando il malato ha bisogno, perché l'eccessiva tecnologia che è fondamentale, che ci vuole, rischia di trasformare una persona malata in un insieme di cellule malate, è quello che vogliamo evitare. Cioè far capire a chi cura il malato che quel malato è una persona come lo è il curante. I pazienti e le loro famiglie che si trovano ad affrontare una situazione di grande fragilità in una malattia che spesso ti porta ad avere bisogno di tante attività mediche, ma soprattutto ha bisogno di essere supportata psicologicamente. Ed è quello che questa scuola mette in condizione gli oncologi di essere particolarmente umani. Abbiamo sostenuto dando sia la sede per il corso, ma soprattutto per i premi, ma soprattutto dando un contributo economico che accompagnerà l'avvio di questa scuola nei primi tre anni. Grazie. 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 Grazie.